Tifosi rossoneri, benvenuti a questa nuova puntata di Forza Milan. Purtroppo questa è una puntata dal sapore amaro perché il nostro amato Milan ha perso contro la Fiorentina. Una sconfitta che, al di là del risultato, è frutto di una squadra che è scesa in campo senza la testa, di giocatori che hanno la testa altrove, di giocatori che non sono degni di vestire e indossare i nostri colori, i nostri amati colori, e soprattutto di una squadra che non è compatta, di una squadra che non segue, a mio avviso, il suo allenatore, soprattutto di una squadra costruita male. Al di là del risultato, finito 2-1, al di là dei due rigori sbagliati, apre anche una parentesi, se il rigorista è Pulisic, perché far tirare i rigori a Teo Hernandez e a Ebram? Due rigori veramente tirati male, 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 male. Se fossero stati realizzati, il Milan almeno avrebbe portato a casa i tre punti, nonostante una prestazione indegna. Io della squadra salvo Magnà, se non fosse stato per lui il risultato sarebbe stato ancora più ampio a favore della Fiorentina, salvo l'impegno di Gabbia, salvo la grinta di Pulisic, ma il resto veramente è una squadra... mamma mia. Anche Leao non mi è dispiaciuto, devo dire la verità, anche se da lui ci si aspetta sempre il tocco che fa la differenza. D'altronde è il nostro giocatore più pagato e indossa la prestigiosa numero 10. Allora, da cosa partiamo? Dalla difesa con la Brodo, ma il secondo gol, ma neanche all'oratorio si prende, neanche all'oratorio, ma è possibile mai che Tomori sia questo giocatore? Dove è finito il Tomori che fino all'anno scorso, fino a due anni fa, era un grande, grande difensore che tutta Europa voleva? Tra l'altro, mi serve un assist, Tomori e Calulu, quando abbiamo vinto lo scudetto, nelle ultime undici partite hanno subito solo due gol, la coppia Tomori-Calulu. Dove gioca oggi Calulu? Dove sta oggi Calulu? Dov'è tra i migliori giocatori della sua squadra Calulu? Non da noi, hanno dato alla società 3 milioni di euro per il prestito, però il minore ha speso 18 milioni di euro per un pacco, per un bidone, non me ne abbia, non si offenda a Emerson Royal se lo definisco un bidone. Fa rimpiangere Calabria, Emerson Royal, una sciagura, una sciagura. Poi il capitano Teo Hernandez, Teo, ma cosa vuoi fare? Ma è possibile mai che alla tua età dobbiamo vederti giocare in quel modo? Il tuo compleanno vuoi tirare il tuo rigore e lo sbagli? E lo tiri in quel modo indegno o sceno? Ma dove, dove volete andare? Dove? 27 anni a Teo. Allora, se vuoi andare via perché non ti rinnovano il contratto, vai via. Io capisco che le tue richieste sono più che lecce, d'altronde, quando ti impegni, quando ti impegni, sei un grande tersino, forse il più forte in Europa, ma è più vero che tu lo stesso sei pagato, è più vero che lo stesso indossi questi colori, i colori che noi amiamo, per i quali facciamo dei sacrifici, e le prestazioni come quelle contro la Fiorentina, e quest'anno non è l'unica, sinceramente offendono la nostra passione, con tutto il bene che ti vogliamo, Teo. Vogliamo parlare? Vabbè, Emerson Royal, lasciamolo stare. Ma vogliamo parlare di Ebram? Ebram? Sì, si impegna, ma bisogna pur segnare. Il calcio non è fatto solo di impegno e di grinta, ci vogliono l'impegno e la grinta, ma ci vogliono anche i gol da un attaccante. Sbaglia il rigore. Lui, in area di rigore, ha avuto praticamente un paio di occasioni che altri a posto suo l'avrebbero buttata dentro, ed ecco questo è il risultato. Una sconfitta dolorosa. Dolorosa non soltanto per i tre punti che abbiamo perso, ma dolorosa perché è un frutto di una prestazione oscena, l'ennesima di questo inizio stagione. Caro mister, allora il modulo che tu adesso stai adottando, è un modulo che ti ha permesso di vincere contro l'Inter, bellissimo, ma non puoi pretendere di andare avanti sempre con questo modulo, anche perché noi non abbiamo le riserve. Chi entra a posto di Morata? E a posto di Ebram chi entra? Okafor? Ma per cortesia. Cioè io, allora, a me quello che dà fastidio è la mediocratizzazione. Che stiamo praticamente diventando mediocri, ok? A me quello che dà fastidio è il percorso che alcuni tifosi stanno vivendo, ossia la rassegnazione alla mediocrità. Okafor in alti tempi non avrebbe neanche fatto la tribuna e noi siamo qui ad osannarlo come grande riserva. Poi, un mister che vede che dopo che Teo ha tirato il primo rigore e lo ha sbagliato, vede il secondo rigore, mica lo va a tirare il rigorista designato, no, va a Ebram, ma caro mister, tu devi entrare in campo e dire fermi tutti il rigor lo tira Pulisic, non lo tira Ebram, invece no, il mister è buono, è buonissimo, ma non è buono per il Milan, a mio avviso. Quindi, presunzione da parte del mister, presunzione da parte dei giocatori, nuovi giocatori acquistati, appunto, sbagliati, senza ritirare in ballo Emerson Royal, e Ebram, ma pure quelli dell'anno scorso, cioè, ma Musa, mi dite voi Musa, non è entrato, per l'amor di Dio, ma Musa, un giocatore pagato 25 milioni, sarebbe proprio bene, ma può essere mai una valida alternativa per noi? Io credo proprio di no. Poi vi è una situazione in classifica che inizia a essere un po' preoccupante, siamo a 5 punti dalla capolista del Napoli, che ha cambiato pure l'allenatore, quell'allenatore che guarda a caso quelli della curva volevano, ma non soltanto loro, anche chi vi sta parlando, e siamo a 3 punti di nuovo dalla trasponda del Naviglio, soltanto che se voi guardate quello che è l'inerzia del Napoli, quella che è l'inerzia dell'Inter, io vedo una squadra, quella di Conte, che anche se non gioca bene, alla fine i 3 punti li porta, è come se li porta a casa, l'Inter ob torto collo è lì, noi invece alterniamo prestazioni decenti a prestazioni oscene, oscene, e quest'anno ne abbiamo viste già troppe, a mio avviso. Concludo sulla vicenda societaria, non si comprende se Cardinale stia veramente vendendo una parte di Milan per finanziare il vendor loan, non si capisce, ma poi io voglio dire, non mi ricordo un Paolo Maldini che ci metteva la faccia sempre, sempre, sia quando si vinceva, ma soprattutto quando si perdeva. Il dio del calcio, lo avete sentito dopo la sfida persa contro la Fiorentina oppure contro l'Everkosen? Lo avete sentito profferire parola, il dio del calcio, il verbo del dio del calcio, quale è stato? Sinceramente io non ho sentito nulla, così come l'altro, Furlani, il manager d'oro sarà bravo a far quadrare i conti, ma sportivamente non è arte sua, come si dice da le parti mie. Tra l'altro, tanto bravo pure non è, perché ha permesso quell'operazione oscena di regalare Calulo alla Juventus per prendere un pacco, un bidone che fa rimpiangere Calabria. Allora, io sono molto amareggiato, sono molto deluso perché come voi amo il Milan, il Milan è un mio grande amore, un amore che mi porto dentro da quando ero piccolo, un amore che l'ho vissuto in tempi di gioia, ma anche in tempi di, tra virgolette, tristezza. Lo ricordo quando in campo il Milan scendeva in campo appunto con Montolivo, con Poli, con Luisa Adriano, con Constant, Decidio. Però io, quel Milan, nonostante i risultati erano quello che erano, in quel Milan vedevo una grinta con tutti i limiti che quei giocatori avevano, ma scendevano in campo con una grinta che in questi giocatori sinceramente non vedo. C'è gente che ha quasi 30 anni e sembra ancora dei 18 anni. Io però vedo il 18enne del, anzi, il 17enne del Barcellona, già campione d'Europa, già un fenomeno in fuoriclasse, già padrone anche dei campi della Champions League. e poi vedo un rapper, un esaltato, vedo giocatori che credono di essere chissà quali campioni, ma al di là di essere buoni giocatori quando attaccano la spina, non sono. I campioni sono ben altri. E noi del Milan, permettete, specialmente quelli da Mietta, i campioni sappiamo cosa sono. E questo è un messaggio riferito a una certa tifoseria e una società che ancora oggi ci prende in giro, ci prende in giro e ha solo l'interesse di vincere lo scudetto del bilancio, ma di alzare i trofei sinceramente non ha alcun interesse. Grazie per avermi seguito, mettete il mi piace al video, seguitemi su anche il tabloid www.ltabloid.it e iscrivetevi al mio canale. Forza Milan, segno!